di questa zona della mappa che ora a me vedete con tutte le zone sbloccate quindi già con la mappa comunque sia la zona che intendo è questa qua come arrivare a villa vulcano ci potrebbe servire per fare delle quest o comunque sia per trovare degli oggetti oppure per trovare un elemento della pozione per fare la build che vi sto per far vedere quindi ragazzi oltre a questa scoperta della villa vulcano vi aggiungerò anche la pozione che appunto vi faccio vedere subito come si chiama vedete abbiamo la nostra ampolla del balsamo e all'interno abbiamo la lacrima di cristallo cerulea e la lacrima aspettata del velo di magia oggi andremo a recuperare la lacrima di cristallo cerulea celata in questo posto quindi fa parte della build ragazzi ed è essenziale per la build non è che fa parte detto ciò se non avete visto i miei scorsi video come arrivare dallo stregolino di azzurro lo trovate nel video in cui c'è scritto come trovare la comatia di azzurro ve lo pingo qua in alto e ci andiamo a teletrasportare nell'ultima garazza che abbiamo scoperto benissimo ragazzi da qua potete tranquillamente andare a cavallo vi faccio vedere il percorso facilissimo allora ragazzi ho messo il video bello veloce tanto ormai siete diventati dei fenomeni seguite il percorso passo passo punto diciamo di riferimento questo ponte e poi mi raccomando seguite le scale qui tranquillamente proprio non ci saranno nemici solo giusto uno all'inizio e basta le scale sono proprio lineari lineari ce ne sono veramente poche difficile sbagliare in questo punto poi occhio che quando arriveremo sopra ci sarà un boss ma non andrà affrontato quindi sarà veramente molto molto facile da schivare non lo andremo appunto a combattere qua punto di riferimento a questo ponte qui col cavallo prendete garazza e saltate qua sopra vi ritrovate il piccolo boss e più avanti in questa zona scendendo sulla sinistra andrete a trovare la porta che ci porterà a villa vulcano e perciò ce ne sono già tantissime quindi sarebbe già inutile farlo detto ciò invece vi faccio vedere dove si trova la lacrima di cui vi stavo parlando per mettere nel balsamo allora ragazzi per questa lacrima dovrete battere un boss che purtroppo è un po' ostico all'inizio del gioco quindi come dico successivamente nel video vi consiglio di farvi aiutare sui gruppi telegram altrimenti commentate qui sotto che vi do una mano io e comunque per trovare questa boss fight seguite pure il video tranquillamente veramente molto facile rendete la vostra grazia e vi riposate mi raccomando perché altrimenti avrete altri nemici inutili che vi daranno fastidio il boss si trova qua davanti purtroppo dovete affrontare questa piccola boss fight che vi consiglio di chiamare diciamo aiuto oppure se volete chiedete anche a me nei commenti tanto non ho assolutamente problemi perché personalmente è stata una boss fight veramente tosta e non sono riuscita a farla da solo ho avuto bisogno di altri nemici quindi vi consiglio di chiamarne qui ragazzi in breve veramente in breve il funzionamento finale della nostra build vi spiegherò tutto anche se al momento non capirete nulla sarà veramente devastante non la migliore ma la migliore che potete fare allo start quasi allo start come vedete semplicemente con un colpo abbiamo distrutto il nostro nemico che voi probabilmente ci avrete messo più tempo a uccidere capisco che per tantissima gente sarà un vero delirio ottenerla quindi vi auguro buona fortuna questa è la cosa più difficile che ci sarà da fare e vi permetterà di mantenere all'infinito il raggio laser diciamo la nostra cometa di azzurra per all'incirca 15 secondi di fila senza consumare magia niente ragazzi per questo video è tutto noi ci vediamo in un prossimo ciao a tutti